Musica Bella ragazzi, sono Daryl e sono tornato con il primo episodio della nuova serie che vi avevo annunciato sulla pagina Facebook, quella della vostra scelta, la vostra classe che dovete scegliere voi, che mi avete consigliato appunto sulla pagina Facebook quindi per gli episodi prossimi venite a mettere mi piace sulla pagina Facebook perché poi quando annuncerò la classe voi dovete consigliarmela appunto su Facebook ma banda le ciance, ecco questa è la classe che mi avete consigliato è un bulldog di merda con... ecco, benissimo è un bulldog con il mirino laser, stupendo e come secondaria mi avete scritto RPG anche se comunque l'RPG non c'è quindi diciamo l'ho scelta io la secondaria e sarebbe questa cosa qua questa cosa di merda qua e niente, è una classe un po' di merda infatti ho avuto i colpi per ammazzare ed è un fucile a pompa quindi è veramente una merdata dunque cercheremo almeno di andare in positivo, siamo già 4-1 e speriamo bene qua c'è sta qualcuno qua sopra vediamo se riusciamo a salire ciao ciao e uno è andato dove sta? porca troia il bello è che da mo' che... ma va seccato se era nemico dunque per ora sta andando abbastanza bene speriamo di non sbragarci all'ultimo come sempre porca troia questo l'avevo visto ah comunque mi scuso se non sono con la facecam però non sto benissimo e dai ma che cazzo ti portato a giard in merda? vabbè che è un fucile a pompa comunque non sto benissimo ho tipo la febbre ma sto facendo questo video al volo per non lasciarvi senza video appunto e quindi non posso farmi vedere per come sono conciato sentite già dalla voce un po' come sto quindi capite che non sto benissimo ecco questi ho tutti dietro oh fermo oh oh un altro beh no cioè sono troppo beh dai ma dai ma che cos'è non è possibile cioè comunque dai oh eccolo mamma mia darillo ragazzi questi stanno tutti qua benissimo che cazzo era? cioè una bomba atomica era una chem mamma mia che classe di merda vi siete poi impegnati da me sta classe voglio vedere al prossimo episodio cosa mi consiglierete vi giuro dove arriverà la vostra mente malata oh ma fermo no beh non sei morto vabbè ti prendo da dietro salve dai come fai? ma come? ma dai ma fai schifo vai siamo 8-6 vediamo di non sbagliarci perché siamo in positivo eh io ho paura c'è da qua mannaggia qua c'è sta il mondo no perché me lo togli oddio oddio eh arrivarci là madonna santa lezzissimo quello oh te levi guarda quanti sono no ma che Cristo è madonna Eva dai 8-8 avevo cominciato benissimo mi sono sbragato lo sapevo che è andata a finire così questo ce l'ha fatta a morino il cespuglio il brabuncino del merda manco se vede quello cioè è una cosa incredibile non l'avevo proprio visto basta c'è un po' di granatiere qua niente la partita è finita 9-9 ma poteva andare meglio poteva andare però molto peggio io vi ricordo di marciare un like sulla pagina facebook perché questa serie è fatta assolutamente tutta da voi quindi dovete considerarmi la classe quindi per consigliare la mia classe mi piace la pagina facebook e niente ci vediamo al prossimo episodio bella